Fedez si prepara a dire addio a Los Angeles, ma i suoi ultimi giorni nella città californiana sono stati ricchi di avventure e momenti divertenti, come ha documentato sui suoi social. Mentre Chiara Ferragni resta in silenzio sui social, il rapper ha condiviso con i suoi follower su Instagram video e storie che lo mostrano immerso nell'atmosfera del Cocella insieme a un gruppo di amici. Ma nonostante il divertimento, il pensiero di Fedez è sempre rivolto alla sua famiglia, in particolare al figlio Leone, nato proprio a Los Angeles nel 2018. L.A. è sempre nel mio cuore perché è la città natale di Lello, ha scritto Fedez, mostrando quanto sia legato ai suoi figli anche durante i suoi viaggi all'estero. Tra un concerto e l'altro, Fedez ha anche trovato il tempo per rilassarsi nella villa dove alloggia temporaneamente, scherzando sul fatto di non essere più così giovane come un tempo. Ma uno degli episodi più divertenti è stata la sua disavventura con una noce di cocco. Fedez ha provato in vari modi ad aprire il frutto esotico, suscitando risate tra le persone presenti. Non siamo mica all'isola dei famosi, ha scherzato il rapper, evidenziando la sua frustrazione. Alla fine, dopo vani tentativi, ha dovuto chiedere aiuto a uno chef che in pochi secondi ha risolto il problema, aprendo la noce di cocco senza sforzo. I fan di Fedez hanno accolto con simpatia questa divertente disavventura, apprezzando la sua ironia anche nei momenti di difficoltà. Grazie a tutti.